Siamo finalmente a Bergen, abbiamo già messo la roba nello stello, ci siamo già preparati, abbiamo fatto la doccia e tutto, adesso siamo qua al porto perché l'olio dice che da qui si vede tutta Bergen, infatti non è male, cioè da qui si vede una via teschiera, quelle famose. Dai Gogo, veloce che siamo in ritardo! No, non è vero, non siamo in ritardo, però ci siamo addormentati dopo la sveglia, quindi dobbiamo andare verso Frankenstown, cose del genere. Sì, Cristian Sund. E quindi, niente. No viaja. No viaja. No viaja. No viaja. No viaja. No viaja. Allora. No viaja. No viaja. No viaja. Niente. No viaja. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.